Ecco a lei. E... questa è la ricevuta. Grazie. E si diverta con il letto ad acqua vintage. Lo farò. E anche i miei gatti. Oh, vuole che l'aiuti a portarlo in macchina? Grazie. Andiamo. È pesante. Forse c'è dell'acqua vintage dentro. Oh, sei così disponibile. Oh, e lei è gentile. Smettila. Sono vere quelle? Cosa? Le pietre agli orecchini. Oh, sì. Sì, sì, sì. Ehi, Jasper! Ci sei, Jasper? Ehi, che c'è? Stiamo tirando fuori Charlotte dal distributore. E ci servono altre mani. Ok, scendo tra un secondo. Oh, mio Dio. Tu stai ripando. Già. Beh, non farlo. Ehi, lavoro qui ora, quindi devi trattarmi bene. No, io sono il cliente, quindi sei tu che devi trattare bene me. No. Il cliente ha sempre ragione! Sì, signora. Ehi, faremo tardi. Per cosa? È il compleanno di una nostra amica. Dobbiamo farle un regalo, ci puoi aiutare? Le piacciono i cani? Sì. Questo è lo scheletro di un cane. Niente scheletro. Ehi! Eh, questa è una pintulaccia. Uh, forte! Quanto vuoi per questa? Fammi vedere. Non vogliamo sapere se è maschio o femmina. Sto cercando il cartellino. Non c'è da nessuna parte. Bene, allora è gratis. Grazie. Non ho detto che potevate... Il cliente ha sempre ragione! Ok. La potete prendere. Più forte! Più forte, ragazzi! Bravo! E la becca straffa! Più forte! Più forte! Come la tiriamo fuori da lì? Ehi, proviamo questo. Charlotte. Charlotte. È tutto ok? No, non è tutto ok. E non ho ancora avuto le mie uova strapazzate! Uova strapazzate? Hai una cosa sul... Questo è Jasper, di sopra. Ehi, Jasper! Che succede? Ci sono due tipi della protezione animali. Chiedono di api zombie. Oh, già, 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 già. Sì, sì, Jasper. Le api zombie sono nella pentolaccia viola. Oh, ho venduto la pentolaccia. Bene, allora dalla... Hai venduto la pentolaccia? Già. E un letto ad acqua. E a chi l'hai venduto? A Jasper! Piper. Mia sorella? Sai che succederà se quelle api zombie escono dalla pentolaccia? Ok, ok, non ti preoccupare. Sicuramente Piper l'ha portata a casa e l'ha messa nella sua camera. Corazzo! No, non, 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 non. Vai, 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 che dura. Vai, 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 è un parche. Come? Come hai potuto dare a mia sorella una pentolaccia piena di insetti della morte? Non sapevo che ci fossero insetti. E invece ci sono! E ce ne sono almeno 50 in quella pentolaccia. Ok, sgridare Jasper non aiuterà nessuno. Grazie. Grazie a tutti.